ciao a tutti ragazzi e bentornati qui sul canale oggi ritorniamo riportiamo non l'ho portato pochissimo 12 volte mi sa non mi ricordo pochissimo comunque fortnite con una dove ho fatto una vittoria reale per culo assoluto e oggi ritorniamo vediamo hanno fatto anche un aggiornamento comunque mi sono allenato parecchio non sono ancora al top però vediamo di iniziare ritorniamo con fortnite vediamo che partite come andiamo quanto duriamo hanno inserito l'elicottero che è una figata assurda e vediamo di campare abbastanza a lungo sono riuscito sempre a posizionarmi almeno dai dodicesimi in su fino ai quarti sono riuscito a andiamo qua in questa zona qui siamo gli altri cosa fanno in teoria ce n'è uno al livello 106 c'è una roba assurda 116 scusate vabbè uno si appena lanciato uno dice andare di là noi ci lanciamo vediamo come cambiamo che sono lanciato anche lui andiamo a riuscire a prendere l'elicottero prima degli altri stiamo attenti alle guardie qua che ci sono ci prendiamo l'elicottero e ce ne andiamo via lontani subito che si è buttato ok qua ci prendiamo il bottino vediamo cosa c'è ok vabbè mi mette di buono però 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 intanto ci aiuta speriamo oh qua c'è già qualcosa diciamo di più serio come ma porca miseria mi sa che non ce la facciamo andare no non ce la facciamo andare a salvarlo però forse riusciamo a prendere la scheda e riavviarlo ahi forza ci possiamo fare degollo immediato quella non ho visto l'albero no niente sta scollegato siamo da soli ragazzi sono da solo in partita cerchiamo di campare più a lungo possibile vediamo un attimo dove la safe si restringerà più o meno andrà su questa zona qui quindi noi possiamo andare a piazzarci atterrare qua non c'è non c'è non c'è niente non ne ha notato niente comunque vediamo allora di sicuro qua ci sarà gente là però c'è vediamo di riuscire a arrivare bene mi pare di aver visto già gente di sotto cosa non bene ovviamente ci faremo notare vabbè lo stesso e speriamo che qua ci sia qualcosa di decente saltiamo giù e speriamo che ci sia qualcosa bene 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 benissimo direi di sì un po' di materiale olle poi al posto di questo un po' di scudi che male non fanno raga non mi sembra di vedere nessuno qua in zona comunque eh direi che può possiamo atterrare qua qua c'è un medikit lo scambiamo con questo allora la probabilmente è stato killato qualcuno la non è che non ho tanto materiale io non ho no aspetta se no mi cade l'elicottero ma siamo fregati vediamo di campare sono già 33 quindi ne sono già stati killati i parecchi la c'è roba buona quindi o è una trappola quella la cosa che posso presumere che sia una trappola perché qua c'è una cassa mmm oh guarda che bello così sì che andiamo d'accordo così andiamo molto d'accordo abbiamo poco materiale però ho sentito dei passi eh non riesco più a salire ho sentito gente eh non riesco più a salire come mai oh 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 ragazzi c'è gente c'è gente c'è gente c'è gente là anche ragazzi ragazzi allontaniamo un attimo per sicurezza tanto ci seguono adesso allora ci seguiranno vediamo vediamo se li vedi eccoli là fermo lì no no fermo lì vediamo se riesco a farmela campare un po' Quello che non voglio Che mi prendano da dietro più che altro Allora li ho visti Dove sono? Eccolo lì Oppa Por un altro Ci spariamo subito un medikit Così siamo sicuramente a posto Bene non possiamo più portarne Materiali Eccoli là Ragazzi c'è un cecchino là in fondo L'ho visto L'ho visto Gli ho visti Guardali là Arriva il razzo Eccolo Ragazzi devo tenere d'occhio quelli Ma l'elicottero alla fine No ma ha distrutto l'elicottero Infami Guardali che infamelli Ma ha distrutto l'elicottero Disgraziati Piano No raga cos'era questo Ok Ci siamo nascosti Stiamo attenti a non farci notare No raga siamo fuori safe però Porca paritta No 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 Raga siamo fuori safe Siamo fuori safe Siamo fuori safe Cavoli Mi hanno chiuso Mi hanno chiuso Raga Raga ci moriamo qua No No Raga siamo messi male Siamo messi male No 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 Siamo messi male No 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 Ok Ce l'abbiamo fatta Ci mettiamo un attimo qui Ci sistemiamo Mi serve comodo Uno scudino Qualcosa No raga Già un minuto Grandessimo Bella Bella Sarebbe comodo Do riuscire a tornare In una posizione alta Sicuramente La gente Sicuramente Facciamo scudo Raga Raga sono rimasti in cinque Se vi rendete conto Sono in cinque Sono rimasti Vediamo se Ce la facciamo salire Due Due Raga stiamo Cinque Era con sei Ah perché ok Ok Ho capito tutto Stiamo Dobbiamo trovare un punto Ok ho visto gente lì Vediamo i campari Possessi Quattro Cioè significa che Un o quattro Una squadra Io sono da solo Quindi Raga è una squadra Intera È una squadra Intera Ci spagliariamo Un medikit Che così almeno Siamo a posto Andiamo di Campare La vedo dura Perché Sono C'è una squadra Intera Raga Una squadra Intera Ce n'è mai capitato Ok Qua ho visto Che c'è Che c'è No Raga Ci siamo fregati Da soli Ci siamo fregati Da soli Che c'è Che c'è E' una squadra Che c'è Che c'è no raga raga porca paletta raga ho finito i materiali non ci credo no raga non posso più salire dai raga siamo fregati basta a meno che non provo una pazzia vediamo se ce la facciamo no raga non ce la facciamo a parte che erano ecco noi comunque secondi ce l'abbiamo fatta erano 4 erano 4 era una squadra intera già top molto bene io vi ricordo di commentare iscrivervi lasciare dei like e forse oggi ci sono un paio di appuntamenti vediamo se riesco ci sarà un doppio appuntamento di fortnite vediamo commentare iscrivervi lasciare un like e un saluto del Drizante a tutti ciao ciao Grazie per la visione!